Di Auschwitz, ho un ricordo stupido, se si vuole. Una sera sono andata sulla foglia della porta della baracca e c'era una lunona, grande. Pensavo, la vedono così anche da casa mia. Mi ha preso un angosso, un male fisico, una nostalgia così dolorosa della mia gente, della mia terra di casa. Avevo il terrore di non farcela e mi ricordo che ci torturavamo dicendoci, finirà presto la guerra. Ci vedranno in questo stato e ci porteranno via con gli aerei. Avranno tutte le cure per noi ridotte in queste condizioni. Così, in poche ore, busceremo alla porta di casa e sentiremo dire «Chi è?» «Mamma!» «Mamma!» E allora giù, a piangere, disperato. Ricordo che un giorno... ... ... ... ... ... ... ...